amici eder parisi amici dovevo recitare un copione eder parisi accusa pesantemente amici ecco perché sarebbe risultata scomoda al talent show di maria de filippi bailuna de massis pubblicato su 5 novembre 2023 a distanza di vari anni dalla sua partecipazione ad amici di maria de filippi eder parisi torna a parlare del programma era il 2018 quando la showgirl entrata a far parte del talent show di canale 5 in qualità di giudice del serale la parisi si è subito fatta notare per i suoi duri giudizi ai ragazzi nota la lite con l'ex allievo biondo per l'uso del lotto tune e per i continui scontri con simona ventura ebbene oggi 5 novembre la cantante ha rilasciato una lunga intervista a il fatto quotidiano nella quale ha svelato un retroscena inedito del suo percorso nella trasmissione è stata la stessa eder a tirar fuori l'argomento amici parlando di come metta sempre la faccia nelle cose e non riesca mai a non esprimere il suo pensiero non riesco a stare zitta sono spontanea per questo ho sbagliato ad amici ha detto ovviamente l'assist ha scatenato la curiosità del giornalista che ha indagato maggiormente da lì la parisi ha deciso di attaccare direttamente il talent show svelando che ci siano dei presunti copioni che i protagonisti devono recitare per questo lei ignara di tutto sarebbe poi risultata scomoda alla trasmissione non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa lì ero fuori contesto mi è dispiaciuto tantissimo stavo in mezzo a dei ragazzi ma non ero in grado di seguire il copione se vuole capire capisce insomma un'accusa veramente pesante ad uno dei programmi più seguiti della televisione italiana tuttavia secondo eder non sarebbe maria de filippi la colpevole a manovrare tutto ciò anzi stando alle parole della parisi la conduttrice non centrerebbe nulla ma bensì sarebbero gli autori a creare un certo tipo di ambiente si capiva che non andava ripeto so recitare solo me stessa ha infine aggiunto dunque scagiona la padrona di casa ma lancia comunque una bordata alla trasmissione di cui la de filippi è al timone da più di 20 anni negli ultimi tempi amici sembra star prendendo stoccate da tutte le parti di fatti sono diversi gli ex protagonisti tra professori e allievi che hanno accusato il programma recentemente tra i primi troviamo l'ex prof luca jurman che ha criticato la piega presa dal talent show negli ultimi anni scagliandosi pesantemente contro rudy zerbi dopodiché è stato il turno di valerio scanu il quale ha dato pubblicamente ragione a jurman infine pochi giorni fa l'ex allievo di amici 21 il cantante calma ha rivelato di essere stato costretto a litigare nel suo percorso ad amici facendo un'accusa simile a quella di eder parisi a questo punto maria de filippi deciderà di replicare a tutte queste insinuazioni o preferirà a optare per la via del silenzio chissà